L'olio è oramai considerato un oro verde, è un prodotto prelibato di qualità, l'Italia è un paese boccato e la Toscana è tra questi uno dei paesi più qualificati. È tornato l'appuntamento con la festa dell'oro verde, l'olio extravergine d'oliva. L'olio è una sostanza nutraceutica, che vuol dire, è una parola complessa che significa nello stesso tempo che nutrisce, come questo si sapeva già da tempo, ma ha azione anche per la salute. Ad ospitare quest'anno la quarta edizione dell'iniziativa promossa dall'Associazione Amici Tutela dell'Olivo e il Comune di Castiglion Fibocchi. Cerchiamo di capire le novità di quest'anno e anche le novità che gli studiosi hanno portato avanti in questi periodi, in questo anno. È il periodo dell'olio, tutte le fattorie, tutti gli agricoltori stanno procedendo con la raccolta e è un'annata molto molto importante anche per la produzione, una grande produzione di olio. Ci speriamo, speriamo veramente che le malattie, oggi siamo qui apposta a capire cosa poter fare per debellare alcuni attacchi che negli ultimi anni stanno danneggiando veramente le nostre culture. L'iniziativa era nata nel 2017 e considerato da molti l'anno nero della produzione di olio ed oliva. C'erano le problematiche della mosca e poi le problematiche successivamente della siccità e questo sicuramente non aiuta i coltivatori a superare, anche perché i costi sono altissimi e quindi impegnano quelli che si occupano di questo. Non abbiamo mai visto estati di questo genere, in queste condizioni, almeno nella mia zona da aprile a oggi abbiamo avuto qualche pioggia durante l'estate e poi pioggia non ne abbiamo più viste. Quindi è un problema che in futuro si proporrà sicuramente perché non credo che poi il clima cambierà di nuovo e tornerà ai valori di prima, assolutamente. Quindi ci vogliono nuove iniziative, nuove varie d'olivo che possano resistere a queste condizioni. Quella 2022 è stata comunque un'ottima annata. La qualità quest'anno si presenta molto buona, ricorda la qualità di due anni fa, che era un'annata di grande qualità. È un olio ben fluttato, piccante, ha un bel colore verde di corpo, si presenta molto bene.